Mi sono divertito molto a scrivere questo libro, Il mistero delle sette sfere, allora ho pensato di trasformarlo in una serie per la RAI. Per farlo ho avuto per fortuna la collaborazione di un bravo collega, di un gruppo di giovani appassionati e soprattutto di un artista fantastica che ha dato il tocco giusto finale. È la storia di Homo sapiens che esce dall'Africa circa centomila anni fa e poi ne combina di tutti coloro. Ma dentro c'è il gene dell'esplorazione e quindi esplora per sfere successive quella della Terra, quella del fondo degli oceani, quello del centro della Terra e poi fuori comincia la conquista dello spazio intorno alla Terra, la Luna, Marte e infine le stelle vicine. Concludiamo con Homo sapiens sidereus. Grazie.